Simone Bolelli, Lorenzo Musetti, Fabio Fognini, Lorenzo Sonego, I amicsinner, e il capitano Filippo Volandri. Signore e signori, richiediamo un attimo di attenzione. Desideriamo informare il gentile pubblico che durante la notte scorsa è scomparso il medico della Nazionale Italiana, il professor Pierfrancesco Parra. La squadra italiana onora la sua memoria giocando con il lutto a braccio e noi dedichiamo a lui un sentito minuto di silenzio. Grazie.